Quella maledetta sera a bordo del peschereccio c'erano Matteo Loiacono e il cugino Giuseppe, entrambi deceduti, il figlio Vito, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Da quanto emerge dal VDR, ovvero dall'analisi della scatola nera all'interno della petroliera Vulcanello, sono da poco passate le 23 del 12 maggio, anzi per l'esattezza alle 23.02, 27 secondi, quando si sente il primo rumore netto. Così lo descrivono gli inquirenti che hanno minuziosamente ascoltato ogni solco della scatola nera impiantata nella petroliera. Alle 23.03.04, un secondo rumore che cresce di intensità ed è più forte pochi secondi dopo, alle 23.03.31. Tutto si svolge in una manciata di secondi, poi il silenzio. Per gli inquirenti sono rumori potenzialmente idoni ad essere prodotti dal contatto ripetuto di un oggetto di grandi dimensioni con l'opera morta della nave Vulcanello, ma c'è dell'altro. Tali urti, come ha notato dalla polizia giudiziaria, sembrano infatti provenire dapprima dalla zona anteriore della nave, per poi terminare nella zona posteriore. In concomitanza dei sistemi di bordo sono state accertate una riduzione di velocità di circa 0,4 nodi rispetto a quella da crociera mantenuta dalla nave precedentemente e una variazione repentina dell'angolo del timone e anche della rotta di un paio di gradi compatibili con una potenziale collisione. A ciò si aggiunge, dopo circa 30 secondi dalla presunta collisione, il rumore dell'apertura di una porta in plancia. Il VDR registra anche una variazione di visualizzazione dei due radar, da modalità diurna a modalità notturna, da colore blu a colore nero, che rappresenta, scrivono nella notazione suppletiva consegnata alla Procura di Palermo gli investigatori della Polizia Giudiziaria, l'unica operazione effettuata sulla console radar dal personale di guardia, sin dall'apparizione al radar del Versaio, avvenuta alle 22.38 del 12 maggio. La visione notturna del radar di plancia, inoltre, non è stata attivata per circa due ore dalle 21.00. Adesso la Vulcanello sarà sottoposta a ulteriori rilevi tecnici. La nave sarà trasferita nei prossimi giorni dal porto di Augusta, dove è ormeggiata, al cantiere navale Palumbo di Messina, dove sarà tirata in secco per l'ispezione tecnica che si svolgerà alle 9 del 3 e del 4 settembre. Il GIP ha inoltre nominato Sergio Barbagelate, il consulente tecnico del Tribunale di Genova, come il professionista che si dovrà occupare dell'aperizia chimica che dovrà determinare se i segni di strisciate visibili nelle riprese video degli inquirenti riscontrati nello scafo della Vulcanello e occultati da uno strato di vernice a sovrapposto siano compatibili o meno con l'impatto tra la petroliere e il pescareccio.